Mi chiamo Barney Gamble, ho 40 anni, sono single e bevo. Nel Nutello c'è un verso su un beone, un uomo ragionevole, col passare del tempo uno sciocco, ora una bestia. Questo dice praticamente tutto. Mi chiamo Barney e sono un alcolizzato. Questa è una riunione delle giovani esploratrici. Davvero? O forse non volete ammettere di avere un problema. Non piangete per me, sono già morto. Grazie. 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 Grazie.